Bene amici, eccolo qua lo Xiaomi Redmi 3 Sì, anche lui è per utenti consapevoli perché arriva in lingua inglese senza plestone installato Ma Grosso Shop ci sta già lavorando A parte questo un'autonomia esagerata Buoni materiali, prezzo basso, un buon display, una parte telefonica A detta di Francesco, eccezionale Insomma, non trovo veramente un valido motivo per non consigliarlo Se non che dovrete smalettarci un po' per farlo funzionare al meglio Perché? E come va? Scopriamo la recensione completa E sì, ed eccoci con il Redmi 3 di Xiaomi Un telefono veramente molto atteso perché è stato presentato da pochissimo Tra l'altro ha un prezzo incredibile in Cina, 99 euro Qua da noi non costa 99 euro, costa un po' di più Tra importazione, spedizione, eccetera eccetera Dentro la confezione c'è il cavo auricolare No, non è vero, il cavo USB, micro USB E il caricabatterie con uscita 2A Quindi ricarica abbastanza rapidamente la batteria Che è veramente uno dei punti di forza del terminale Incidente diplomatico con il Leti V Perché abbiamo 4000 mAh integrati Dopo vorrò vedere le statistiche Quasi due giorni di utilizzo stress dei miei Veramente incredibile senza nessun tipo di risparmio energetico Dietro tra l'altro è in metallo con questa trama Che a me sinceramente non fa impazzire Non è molto elegante Però il metallo dona un senso premium al telefono Che sopra e sotto è in plastica La camera posteriore è da 13 megapixel con il flash led Poi c'è quella ovviamente anteriore Intanto accendiamo il telefono con il pulsante qua a destra Poi sopra il volume Infrarossi, secondo microfono Il jack per le cuffie Qua a sinistra c'è il carrellino dove può stare O una sim normale Una nano sim e una micro sim diciamo Oppure una micro SD più una nano sim Quindi dual sim alternativi sotto L'USB con il primo microfono Si sta accendendo davanti Qua sotto i tasti purtroppo non sono retroilluminati Ma sotto il tasto home c'è un led piccolo ma visibile RGB personalizzabile nel colore in base alla notifica E qua sopra camera anteriore Il sensore di luminosità di prossimità E l'altoparlante per la capsula auricolare Purtroppo il sensore di luminosità è l'unico punto un po' critico di questo Xiaomi Per il resto veramente ho fatto fatica a trovargli un difetto Sblocchiamo il telefono Andiamo a parlare di caratteristiche velocemente L'avete vista nelle immagini di presentazione Dual sim funziona molto bene 4G che può essere switchato a caldo Con internet su una sim rispetto all'altra E tra l'altro ho gestito bene Perché se vado qua dentro posso andare a decidere Sim per sim La suoneria dei messaggi e delle chiamate Cosa gli manca fondamentalmente è solamente l'NFC Perché ha il wifi monoband, il DLNA, ha l'OTG Vedete anche la possibilità di Miracast La MIUI ha veramente tantissime possibilità di personalizzazione Qua sono tutte quelle relative alle notifiche Lo schermo là sopra delle notifiche Tantissime possibilità di personalizzazione Anche grazie ai temi Grazie alla MIUI 7 Basata su Lollipop 5.1.1 Ci sono veramente tantissimi temi a disposizione Dallo store cinese Perché fondamentalmente questo è un telefono per utenti consapevoli Che vi arriverà in lingua inglese o cinese Non si può ancora scegliere l'italiano Anche se Grosso Shop sta già lavorando a questo Possibilità di scegliere il tema, il font e la grandezza del tema di sistema E parliamo un pochino di display Perché sono proprio qua nella schermata apposita Si può settare il colore, il contrasto Andiamo subito nelle immagini di test Entro qua nelle foto offline Si possono andare a sincronizzare anche le immagini Tramite il cloud di Xiaomi Immagini di test E qua vediamo il display da 5 pollici di diagonale HD 294 PPI Vi ripeto, unico difetto Il sensore di luminosità non molto reattivo A volte a bassa e alta luce un po' a cavoli suoi Ma secondo me probabilmente c'è un algoritmo di miglioramento delle foto E lo vediamo quando giriamo una foto Guarda anche questa classica griglia di pixel Che va a comporsi dopo circa un secondo che scrollo l'immagine Anche la palette colori, vedete? Si, diciamo, migliora quando la vado a visualizzare Stessa cosa con tutte le immagini Per esempio la griglia dei pixel Ha il solito difetto che in HD questa righettina è molto sottile Vedete come l'algoritmo la va a cancellare perché è troppo sottile Va a migliorare le altre Per quanto riguarda l'angolo di visuale Buono, è un IPS Quindi qualche minima criticità a queste angolazioni Ma veramente nulla di che Ho trovato invece il nero non perfettamente nero Soprattutto quando lo andiamo a mettere di taglio Perde un pochino quella profondità Per il resto veramente un display che mi ha convinto particolarmente Per i più addicted faccio vedere le statistiche della MIUI 2 GB di RAM Il processore, lo Snapdragon 616 con la Dreno 405 Lo fa girare veramente molto bene Ma parliamo un attimo di parte telefonica perché è un'altra parte che ha convinto Veramente tanto Attivo lo speaker Alzo il vivo a voce Non tanto per il dual sim ben gestito Quanto per Cosa è successo? Vodafone è andata in vacanza Alziamo un po' il volume Tra l'altro mai nessun problema di ricezione in questi giorni Di test Allora sentite come l'audio non sia altissimo Ma sia di buona qualità Profondo E difficilmente Francesco Lantennista Orecchio Fino si sbilancia Qui mi ha detto di sentirmi benissimo Anch'io lo sentivo veramente Molto molto bene Andiamo a vedere come gira il telefono Che non è un fulmine da aprire le applicazioni Una volta aperte Sono abbastanza fluidi Vedete il gestore delle pagine ci sta mettendo un pochino A volte ha qualche micro lag Qua e la Forse una rom che va ancora ottimizzata Tra l'altro io in questi tre giorni di test Ho ricevuto già un aggiornamento del firmware Vedete poi una volta aperto il telefono Come gira bene Possibilità ovviamente qua di multitasking Multitasking non a schede Ma bisogna andare a girare orizzontalmente Ovviamente posso chiudere tutto Oppure chiudere o bloccare un'applicazione Facendo su e giù Giuro che non l'ho fatto per farla andare più veloce Ma mi è cascato il dito sul Sul chiu di tutto Vi devo dire una cosa Questo telefono vi arriverà senza play store E soprattutto non si sincronizzeranno i contatti Allora vi do due dritte Vi faccio vedere gli apk che dovete scaricare Google installer Cercatelo su google Lo trovate tranquillamente E google contact sync Insomma questa roba qua Copiatevela, scaricatevela Installatevela, smanettate un po' Spegnete e riaccendete e avrete poi il play store Dovete scaricarvi tutte le applicazioni di google Perché non sarei prestata nemmeno una Da gmail a hangouts eccetera eccetera Ma dal play store poi funzionerà tutto Tranquillamente e senza criticità Andiamo dentro Chrome per vedere come Come gira Andiamo sul corriere.it Tra l'altro dovrete anche scaricarvi la tastiera google stock O quella che più volete Perché quella di serie Sarà veramente praticamente inutilizzabile Quindi un telefono per questo Dico che è un telefono per utenti consapevoli Corriere della sera che si è aperto Tra l'altro 4G con Vodafone Che funziona veramente molto bene Anche su questo telefono Non ho ancora capito se ha o non ha la banda da 800 MHz Sta di fatto che con Vodafone Non ho avuto nessun tipo di problema Allora il corriere finalmente si è ricaricato Non voglio tradurre questo sito web Ovviamente perché è settato in inglese il telefono Ma vedete come Chrome segue le dita Veramente fluido veloce Non ho avuto problemi di navigazione web In questi giorni di test Magari proviamo il mio sito AndreaGaleazzi.com In molti mi avete chiesto di provare A entrare in una notizia Tra l'altro appena pubblicata Questa del VideoTel di Mano Nera Vediamo se ci sono già i commenti Se c'è già attivo Discas Per inserire un commento Ok qua Mi clicco dentro E vedete come scrivere nel campo di testo Non è un problema E anche la tastiera Questa è la classica di Android Reagisce molto molto bene Anche se adesso vedete Ha avuto un piccolo lag Nello scrivere nel campo di testo Sono quei lag che random Questo Redmi 3 ha Però veramente non inficiano Sull'utilizzo quotidiano Vi faccio vedere anche Real Racing Come gira veloce Veramente una scheggia Sempre qualche secondino A caricare Vi parlo nel frattempo Di come sta in mano È un 5 pollici Quindi rispetto ai canoni Moderni purtroppo Di aumento di polliciaggio Devo dire che è un telefono Quasi piccolo Però è molto scivoloso È un telefono che scivola parecchio Questa back cover in metallo Fa sì che Si faccia fatica A tenere in mano Ma ha un'ottima gesture Per uso di una mano Non l'attivo adesso Mentre sta caricando Real Racing Basta fare uno swipe Come su Huawei A destra O con la mano sinistra Verso sinistra Qua sotto Dalla home Fino al bordo Per rimpicciolire lo schermo E farlo diventare Utilizzabile O meglio utilizzabile Anche a una mano Tra l'altro è un telefono Che non è pesantissimo Ok Si è avviato Real Racing Avete visto Non velocissimo Ad avviarsi Ma guardate poi Come scheggia Nel giocarci Sì Incredibile Adreno 405 Fa veramente bene Il suo lavoro Ok Partiti E tra l'altro Abbiamo i dettagli Al massimo Perché c'è Sia la mongolfiera Sia Il dettaglio Negli specchietti Vedete come è fluido Veloce Non scattoso Insomma Devo dire che Giocare a Real Racing È stato un piacere Su questo Su questo Xiaomi Torniamo indietro Parliamo di parte Multimediale Di solito sui telefoni Da 100 euro Poco più Questo si trova Online Su Grosso Shop Mi sembra che costi 140 150 In questo In questo momento Ho visto anche Altri store online Costa più o meno La stessa cifra Devo dire che Si fa fatica A trovare un telefono Con queste caratteristiche Di qualità Tra l'altro Bella l'interfaccia Con l'HDR Subito lì a portata di dito Come Con il Come il flash Qua ci sono le altre Opzioni Vedete 16 noni Oppure 4 terzi E qualità Della fotografia Purtroppo non si può Scegliere il numero Ma solamente Un valore Qualitativo Non quantitativo Questo per quanto riguarda Le foto Per quanto riguarda Invece i video Anche qua Swipe in alto Possibilità del timelapse E possibilità di girare Al massimo I video In full HD Andiamo a vedere Qualche fotografia Che ho scattato Con questo Con questo telefono Entriamo qui Nella galleria Tra l'altro presente Avete visto La La radio FM Allora Buzz E devo dire Che le macro Vengono Bene Però non bisogna Avvicinarsi troppo Al soggetto Perché se no Il telefono Non riesce a mettere a fuoco Mentre le panoramiche Vengono decisamente bene Ho fatto delle foto Anche difficili Guardate questa In piazza Gaiavolenti Con Un'illuminazione particolare Quasi al tramonto Questa con i riflessi Del sole Nelle vetrate E devo dire Che ha colto Veramente Ogni dettaglio Sono drogato Di Amazon Prime Now Questo è il pony Che oggi Non mi ha consegnato Ma poi vi racconterò Magari sulla mia pagina Facebook La storia di questa giornata Flash Che funziona benissimo Illumina Molto uniformemente E guardate questa foto Fatta col flash Come è Dettagliata Se vado a zoomare Questa è fatta senza flash Devo dire anche qua Non male Ho visto telefoni Anche di fasce superiori Fare peggio Nel mio Nel mio ascensore Anche qua i colori Ripresi Ripresi bene Questo fiore La fontana Ho fatto altre macro Stamattina Ecco questo HDR Questo qua HDR Questo senza HDR Quindi anche l'HDR Vedete funziona Funziona bene E qua la mia solita Colazioncina da Princi Devo dire che Magari non precisissimo Nell'esposizione Ma bello lo sfondo Sfocato E comunque la tazzina Molto bene a fuoco Quindi Per quanto riguarda le foto In assoluto Direi più che discrete In rapporto al prezzo Buone Video un po' meno Perché perde un po' di frame Con poca luce In rapporto al prezzo Comunque anche i video Non sono male Ascoltiamo la musica C'è l'applicazione Musica Di Xiaomi Che va a cogliere Anche nel Database Diciamo Allora si sente molto molto bene Tra l'altro c'è l'equalizzazione In base anche al tipo di cuffie Che vanno ad agganciarsi Qua sopra Al Redmi 3 Insomma Sinceramente Non riesco a trovargli Dei grossi difetti A questo Redmi 3 Ha una autonomia Pazzesca E tra l'altro Mi fermo un atto Perché avevo promesso Di far vedere Dei grafici Allora ve li faccio vedere Andiamo qua Andiamo qua Negli No non sono negli screenshot Facciamo una cosa Andiamo live Perché È da stamattina Che ce l'ho acceso E lo sto utilizzando Veramente Intensamente Quest'oggi Andiamo qua Nei settaggi Intanto Uso una mano Come vi ho fatto vedere prima Mi è cascato l'occhio Proprio lì Ok Qua Batteria C'è tra l'altro L'OTG Utilizzo Andiamo subito A vedere Lo schermo Qua Quanto ho fatto di schermo 3 ore 29 Guardate quanto sono Al 50% Con il mio Uso E se anche vado a vedere Qua Lo scaricamento Vedete che è abbastanza Costante È vero L'ho collegato un attimino Al pc Per scaricare le fotografie Ma nulla di che Veramente sarà stato collegato 5 minuti Guardate qua La barrettina verde Presto uno scaricamento Costante Avete usato anche il gps Insomma Veramente una grandissima Autonomia Una parte telefonica Ottima Un buon display Una discreta fotocamera Gli manca il sensore Di impronte digitali La MIUI È un bel software Personalizzabile Con moltissimi temi Qua tra l'altro Tutti i programmi Xiaomi preinstallati C'è il solito programma Per andare a controllare Un pochino il telefono E tra l'altro C'è il programma Per utilizzare La porta infrarossi E comandare TV Oppure Setbox Ma non è un telefono Per tutti Però rimane in inglese Anche se il grosso shop Vi ho detto Ci sta lavorando Ancora il bootloader Bloccato Bisogna installargli Il Play Store E altre A pick up Per renderlo Usabile anche Che è la sciuramaria Diciamo così Ma per chi è consapevole Vuole spendere poco Sarà sicuramente Un ottimo acquisto E non solamente Come secondo telefono Un saluto da Andrea Galeazzi Punto com Un saluto da